tanta voglia per tutti ragazzi sono mischio e benvenuti in un nuovo video oggi al ritorno della games week andiamo a scoprire insieme quali sono i migliori giochi che abbiamo provato in anteprima e che verranno messi a breve nel mercato partiamo subito con il primo stand si tratta di ubisoft e il nostro primo gioco che siamo riusciti a provare si tratta di for honor questo gioco uscirà il prossimo 14 febbraio 2017 per ps4 xbox one e pc e in fiera abbiamo avuto la possibilità di provare una demo nella quale ci sfidavamo 5 contro 5 nella modalità cattura la bandiera essendo un gioco di squadra sarà fondamentale collaborare con gli altri compagni di squadra per conquistare più bandieri possibili e uccidere i nemici che cercheranno di impedircelo per quanto riguarda la mappa di gioco non abbiamo nulla da dire perché si tratta della stessa che abbiamo testato l'anno scorso nel complesso si dimostra un gioco interessante purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di giocare la campagna che forse una delle cose che più stavamo aspettando ma dovremo attendere ancora un po di tempo siamo riusciti a provare anche watchdogs 2 o forse no infatti con molta delusione non è stato possibile provare nessuna demo di questo attesissimo gioco siamo riusciti però a fare qualche domanda agli sviluppatori e trovate qua sotto il link in descrizione l'intervista a ubisoft possiamo però analizzare alcune considerazioni ci siamo spostati da una spenta e piovosa e tetra chicago a una soleggiata e coloratissima san francisco intenzione infatti di ubisoft è quella di portare la serie a un livello superiore proprio come accade con il franchising degli assassini inoltre abbiamo scoperto che le missioni secondarie saranno una sorte di parte integrata con la storia inoltre a disposizione di marcus il nostro personaggio è stato affidato un nuovo sistema di hacking perfezionato rispetto al precedente capitolo sono stati fatti moltissimi passi avanti per questo gioco la paura più grande è quella che i giocatori si fermino a quello che è stato watchdogs 1 noi vi invitiamo a provarlo se ne avete la possibilità e a dare fiducia a questo magnifico gioco passiamo a square enix dove l'attesissimo final fantasy 15 è stato provato dal nostro mitico geo abbiamo avuto appunto la possibilità di provare la demo e dopo diversi forse troppi minuti di filmati iniziali siamo entrati nel vivo del gioco la prima cosa che cade all'occhio sono la qualità forse un pochettino altalenante delle texture che non sempre ci sono sembrate bellissime mentre i modelli dei personaggi ci sono sembrati veramente impeccabili senza sbavature e con ottimi espressioni in generale lo scontro con i primi nemici di gioco ci ha dato un'idea delle mosse che potevamo compiere e non lo sapete ancora final fantasy 15 rappresenta un netto taglio con il passato delle serie che passa da un gameplay con combattimenti a turni ad un rpg con combattimenti in tempo reale come già accade nella serie di kingdom earth man mano che accumuleremo esperienza con i vari combattimenti acquisiremo anche gli immancavoli punti abilità nella quale non sappiamo ancora se sarà possibile sbloccare tutti i bonus o si potrà selezionare solo una determinata categoria il gameplay non è stato purtroppo approfondito più di tanto perché ci hanno stoppato nel bel mezzo dell'azione principale ma ci sono buone sensazioni nell'aria i dubbi forti riguardo all'aspetto grafico però siamo agli sgoccioli e il gioco sarà a breve sul mercato incrociamo le dita considerando soprattutto che ottima grafica non significa per forza ottimo gioco teso per gennaio finalmente arriverà il nuovo capitolo di kingdom earth in questa milan games week abbiamo appunto avuto la possibilità di provare la demo nella quale vi erano presenti ben tre livelli il primo dedicato a sora nella città di mezzo il secondo il terzo con protagonisti ricco ambientati rispettivamente ai mondi ispirati al gobo di notre dame e tron legacy per quanto riguarda il gameplay rimane fisso a 60 frames senza alcun calo neppure quando siamo impegnati a sfruttare il rapido flow motion ea combattere tanti nemici utilizzando magie che producono luci psichedeliche questa nuova versione sembra davvero ben realizzata almeno da quello che abbiamo visto finora il gioco non ha risentito minimamente del passaggio da una risoluzione come quella del 3ds a un 1080p per ps4 le texture risultano comunque perfettamente pulite i modelli poligonali sono stati rimodernati nonostante persistano alcuni spigoli fastidiosi nei modelli dei personaggi non dimentichiamoci però che si tratta di una semplice rimasterizzazione e che questo gioco è stato concepito per un hardware ormai vecchio in conclusione possiamo dire che questo kingdom earth per gli amanti della saga è un gioco da avere soprattutto per i nostalgici che vogliono passare appunto dal 3ds a qualcosa di più fluido come la ps4 passiamo invece al padiglione di sony dove abbiamo avuto la possibilità di provare farpoint un gioco per il playstation vr che ci ha letteralmente lasciati a bocca aperta in questo gioco siamo nello spazio e dovremo affrontare i nemici e sotto forma di ragni in questo visore che ci immerge dentro il gioco la sensazione di immersività che vi dà questo fps è veramente esaltante in più occasioni ci troveremo a guardarci intorno per ammirare lo spazio ma non per troppo perché i nemici saranno pronti ad attaccarsi da ogni angolo e dovremo essere veloci nel sparare prima che ci raggiungono stiamo parlando di una tecnologia completamente nuova ancora forse un po acerba ma questi sono gli inizi per questa nuova generazione il mio parere è molto molto positivo e sinceramente non vedo l'ora di provare qualche nuovo gioco sul vr allo stand sony non potevamo fare a meno di parlare di horizon zero down abbiamo avuto appunto la possibilità non solo di giocarci ma anche di assistere a un gameplay giocato da uno degli sviluppatori per quanto riguarda il vero e proprio gameplay abbiamo apprezzato tantissimo la schermata di rotazione delle armi molto semplice e veloce proprio quello che serve per questo stile di gioco infatti durante la nostra esplorazione nel nuovo mondo ci saranno vari nemici che ci attaccheranno oppure solamente ci passeranno a fianco starà a noi decidere se attaccarli per recuperare materiali o lasciarli passare potremo inoltre operare una sorta di corruzione di questi esseri a nostro favore infatti potremo addomesticarli e usarli per muoverci molto velocemente nella mappa un componente chiave di horizon sarà la costruzione di nuovi equipaggiamenti e munizioni cosa che potrete fare raccogliendo le numerose materie prime che troverete nel gioco oppure dalle carcasse delle macchine abbattute questa meccanica è molto simile a quello che accade a far cry o nella recente serie di reboot di tom rider mano mano che avanziamo di livello avremo a disposizione sempre più varietà tra gli oggetti da poter creare che vanno da semplici medicine o a trappole esplosive che saranno fondamentali per superare certi possenti ostacoli come il super corruttore super corruttore appunto che si tratta di una macchina stata corrotta da un virus o da qualcosa che ancora bene non conosciamo su di esso vi appunto delle cose nere simili a serpenti e lo vedremo soprattutto dai movimenti e dalla distruzione che porterà nella mappa dal punto di vista tecnico questo gioco è davvero strabiliante i paesaggi sconfinati sono rappresentati a dettagli senza alcun difetto perlomeno per quello che siamo riusciti a vedere durante la demo anche se c'è qualcosa da sistemare per tutto il resto ci sentiamo di dire che è veramente straordinario parliamo quindi di un prodotto che ha tutte le carte in tavola per strabiliare lista la sua particolare natura innovazione e anche questo non vediamo l'ora di riprovarlo il prima possibile siamo riusciti anche a vedere un solo video per quanto riguarda the last guardian si tratta del solito video gameplay che abbiamo visto anche alle 3 faremo comunque un'anteprima entro novembre ma per ora non ci sentiamo di dare altre informazioni passiamo allo stand in microsoft dove abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima dead rising 4 padda la mano e ci siamo subito ritrovati in mezzo a un'orda di zombie con l'obiettivo di raggiungere un casolare nella quale si trovava un corpo da analizzare il nostro personaggio avrà tre slot per le armi uno per le armi a lungo raggio uno per quella di mischia e uno per le bombe ordini vari tra le tante armi che abbiamo provato bisogna assolutamente segnalare una balestra che spara fuochi d'artificio una spada di ghiaccio e una specie di ombrello che lanciava la g laser come non bastasse inoltre abbiamo anche potuto indossare una tuta exo che ci ha reso praticamente invincibili e grazie a questa siamo riusciti a impugnare armi molto potenti insomma come avrete avuto modo di capire dead rising 4 è un gioco nella quale troverete molte armi che voi stesse potete creare per uccidere zombie nei modi più stravaganti e inimmaginabili oltre alle missioni principali durante la nostra prova abbiamo potuto svolgere anche alcuni compiti secondari che apparivano casualmente all'interno della mappa ad esempio c'è stato chiesto di salvare dei sopravvissuti che erano nel bel mezzo di un ordo a zombie non finiscono qua le novità infatti in dead rising 4 tornano anche i veicoli grazie ai quali potremmo muoverci più velocemente e con cui potremo uccidere gli zombie prendendoli letteralmente sotto per quanto riguarda invece la trama non abbiamo potuto capire per evidenti motivi quanto sarà profonda e curata questa demo ci ha sorpreso positivamente nonostante alcuni problemi tecnici e grafici che tuttavia potrebbero essere risolti prima dell'uscita del gioco che è prevista per il 6 dicembre 2016 passiamo poi allo stand di electronic arts nella quale abbiamo potuto rigiocare alla demo di battlefield 1 e di titan phone 2 che erano praticamente le stesse che abbiamo provato qualche settimana fa in merito a questo vi lascio comunque gli articoli in descrizione dove troverete i nostri pareri di queste due bellissime demo siamo passati anche dallo stand di bandai infatti dopo un bellissimo torneo che è stato svolto dal campione italiano e il nostro magnifico banti dove ovviamente il nostro banti ha vinto questa era la parte ironica siamo riusciti anche a testare dragon ball xenovers 2 dove sostanzialmente non fa che migliorare l'esperienza che avevamo con i vecchi dragon ball in particolare in questo xenovers 2 bisognerà scegliere con cura anche la razza del nostro combattente dato che alcune queste cambieranno proprio a seconda della razza che avremo scelto come se non bastasse inoltre anche il gameplay è stato migliorato soprattutto per quanto riguarda il bilanciamento dei combattimenti e alcune mosse che nel capitolo precedente erano fin troppo potenti per terminare dims ha ben pensato di aumentare anche il roster dei personaggi che vedrà tra gli altri l'inserimento di magin vegeta e gohan del futuro vi ricordiamo che questo gioco sarà disponibile per ps4 xbox one pc dal 25 ottobre 2016 infine siamo riusciti a passare anche dallo stand di nintendo nella quale venivano svolti diversi tornei e nella quale è stato riprodotto il trailer di pokemon sole e luna niente zelda purtroppo altre novità qualche giorno fa abbiamo provato la demo di appunto pokemon sole ci è sembrata veramente ben fatta anche con delle quest interne già nella demo e la possibilità di inviare tutti i propri progressi o almeno gli oggetti che siamo riusciti a ottenere in questa demo alla versione completa bene ragazzi per questo video era tutto questo era un recap dei giochi appunto che abbiamo provato e che saranno in uscita nei prossimi mesi un saluto e un ringraziamento a tutte le persone che abbiamo salutato e incontrate al games week qua dammi iscritto è tutto ci vediamo nel prossimo video e tanta guagna per tutti